un giorno la vita mi ha colpito così forte che mi ha insegnato a resistere un giorno mi hanno mentito così tanto che mi hanno ferito e allora ho imparato ad andare sempre avanti con la verità un giorno ho perso chi non avrei mai creduto di perdere e ho capito che bisogna concretizzare le parole e farsi carico delle azioni a volte è necessario voltare pagina e ricominciare da zero anche se è difficile e fa male il miglior guerriero non è colui che trionfa sempre ma colui che torna senza paura a combattere Grazie 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 Grazie